mi è piaciuto un commento che mi è arrivato un video prima sempre Beetlejuice, sempre Tim Barton, grazie, grazie, è un onore, ma è un onore, sì mi sono svegliato come Beetlejuice, Beetlejuice, che film ragazzi che personaggi ragazzi, veramente, un incubo continuo, ma un incubo di quelli grotteschi che mi divertono ah, veramente, quanta è bella la fantasia oh, tra l'altro, raga, adesso ho saputo del scandalo Puff Daddy non solo, sembra coinvolto DiCaprio, Justin Bieber, JLo come mai però certi telegiornali non ne parlano? ecco, sembrerebbe in realtà che non vogliono far divulgare nel mondo questa notizia la vogliono tenere più in casa loro, però l'America, cacchio, come, come, come infatti TikTok cinese, non frega niente, divulgato TikTok vabbè, se a voi, in alto insieme per i 100.000 iscritti, attivate la campanella per ogni aggiornamento di cuore, grazie a ognuno di voi ora, ragazzi, devo fare un chiarimento perché fanno ricircolare non che fanno circolare, è un riciclaggio è ricircolare un video della Shrine dell'anno scorso non è di quest'anno, va là non è dell'alluvione di quest'anno ben più grave quella dell'anno scorso perché lei aveva da poco lasciato la regione va là e poi è diventata segretaria del PD quindi ieri abbiamo parlato di che cosa? di che cosa abbiamo parlato? della Shrine che viene un po' da qualcuno presa di mira responsabilizzata colpa sua lei dichiara non vi lasciamo da soli e qualcuno interviene ma se ci hai lasciato da soli da tempo ma che dici sei qui solo per propaganda con De Pascale sai che è candidato alla regionale della regionale del PD è candidato ma è normale che sei qui per propaganda però però il video dell'anno scorso non è di adesso chiariamolo io sono qui per chiarire questa cosa attenzione attenzione l'anno scorso è andata a sapete nel giretto privato che ha fatto lei a differenza della Meloni è andata da qualcuno e ha chiesto scusate ma posso sapere un attimo da dove è partito il disastro cioè qual è il fulcro tipo il terremoto cioè da dove comincia dove è l'epicentro di questo di questo disastro si sono guardati così gli altri si vede il responsabile il direttore non lo so di questo canale non lo so questa diga e dichiara scusi scusi ma sai guardi che era lei che lo doveva sapere lei che ce lo deve dire no idrologico idrogeologico ambiente territorio cioè lei lei era responsabile lei ce lo deve dire ditemi la vostra benvenimenti grazie a tutti